buongiorno amici buongiorno a tutti i nostri amici dall'Italia insieme ragazzi oggi siamo visitati la città di San Luca dove siamo ora è il centro storico di San Luca in Calabria siamo in la provincia di Reggio Calabria e guarda qui il centro storico è totalmente abbandonato quindi ci sono molti luoghi che sono quasi distrutti ma molto bellissimi ragazzi per camminare qui quindi voglio mostrarvi il centro storico, iniziamo dalla città e poi andiamo dentro questa bellissima, larga e vecchia strada di San Luca e poi vi dirò un po' più di San Luca è famoso in tutto il mondo perché San Luca è la casa della mafia calabriana chiamata Trangheda oggi credono che sia la più potente mafia in tutto il mondo e dove siamo ora è davvero il cuore dell'organizzazione chiamata Trangheda di Calabria quindi San Luca è qui dove un po' di cose hanno deciso e dove la maggior parte delle famiglie che apprezzano a Trangheda, vengono da qui quindi andiamo a vicino ragazzi, sono un po' assicurato per camminare San Luca, per essere sincero, non qui in questa area dove non c'è nessuno ma dove ci sono persone perché non vogliono essere filmati, ovviamente sono assicurati per le camera e quindi andiamo a camminare principalmente sulle strade il panorama è bello da questa balcone ma anche andiamo a camminare dentro queste strade è bello, molto calmo e calmo credo che a alcuni punti è un po' pericolo per andare a camminare, perché vedete le walle sono un po' fragili quindi alcuni pezzi possono fallire ma dovremmo essere attenzione e continuiamo a camminare per andare a camminare quindi San Luca è diventato famoso negli ultimi anni perché alcuni anni fa c'era un evento in Germania, in Duisburg quando alcune persone di San Luca lasciarono la città e fanno a Germania per la città di Duisburg in Germania per uccidere alcuni altri di San Luca dalla stessa città perché qui ci sono diverse famiglie che vogliono mantenere il controllo della città quindi è un continuo combattimento, un continuo competizio tra le famiglie che vogliono mantenere il controllo del territorio e queste combattie stanno passando per molti anni in italiano si chiamano combattere tra le famiglie quindi magari si è iniziato 100 anni fa quando qualcuno di una famiglia ha matato un membro di un'altra famiglia e poi magari dopo 20 anni si rinvendicano i uomini dalla famiglia e poi si continua a continuare e a continuare solo quando tutti i membri di un'altra famiglia saranno morti quindi quando non ci saranno altri membri della famiglia allora la guerra la vera la vera sarà finita questo è come funziona e le famiglie di San Luca o di Calabria che appena sono chiamate Ndrine sono i mafiosi i mafiosi i mafiosi i mafiosi che tutti insieme vogliono controllare il territorio e oggi la mafia calabria è così forte che hanno connessione soprattutto nel centro dell'america con la droga e si è diventano molto molto forti e ricchi ma molti anni fa cosa hanno fatto era chiamare persone specialmente in Italia il più famoso evento era quando Drangata chiedeva Paul Getty questo ricco eh l'anzo di questo ricco d'america non voleva pagare per circa due anni quindi dopo due anni pagarono e poi hanno fatto il figlio il figlio e hanno fatto così tanto pieno che pensano che dopo questo figlio di Paul Getty la mafia calabria diventarono molto forti perché hanno fatto tanto pieno dopo questo figlio che diventarono molto forti e dopo questo evento hanno stoptato di figlio di persone all'Italia perché si chiamava tanta polizia e persone d'estate in colombia quindi si chiamava persone e cambiano business specialmente into drug wow guardate questo ovel ragazzi guardate questo ovel è così bellissimo so maybe here there is one person living in this house it's house very well kept looks in very good condition and then over here you walk and you're in a more good area of san luca and then as i told you san luca is the home of drankata calabria mafia and a lot of people belonging to drankata that they were coming from san luca and the police was looking for them they found them in these houses but not on the first or second floor but under the houses so many of these houses they have like a bunker below that was made during the years just to escape for example from police or from people that they were looking for them or from the competitors maybe they were going inside the house and then they were hiding under the houses in the ground floor maybe there was a bunker where all these people stayed to be more safe look at this house it's totally a labyrinth but as you see there are also so from the outside these houses guys they look very poor and in bad conditions but then inside they have everything because here people live and they have a lot of families also staying here so guys we just met a lady she was cleaning in front of the house her house and then i said hi she without saying hi she asked me where are you from and then i said did i say she said and then i said i'm from cosenza and then she replied ah but in cosenza you also have beautiful places like she was saying why you don't stay in cosenza why you come here to film and to walk around my house if you also have beautiful places in your house so people here from this town they are very suspicious when they they see foreigners they start asking where are you from what are you doing why you are here and some because they don't know who you are why you are here and if you see the ladies here many ladies they are dressed in black totally black because maybe the son or the father or the husband was killed during some war between the different families of the drangheta like the lady we just met so keep walking inside the historical center of san luca you will see the first beautiful thing it's the native house of corrado alvaro over here and then entering in the town you will see the old houses like this in the historical area of san luca okay this is the fondazione of corrado that's the entry and then over here it's really a labyrinth guys here more than in other towns of italian towns of calabria that's is it's that's not it's like you know it's you 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 you